Ciao e benvenuto, sono Bob Proctor. Voglio parlarti delle strategie per l'alterazione dei paradigmi. Sai cosa, un paradigma può causarci enormi problemi, perché causa i nostri risultati. E se i risultati non sono dove li vogliamo, se non capiamo che quei risultati sono realmente motivati dai paradigmi, non potremmo mai cambiare i risultati. E la maggior parte delle persone passa la vita senza cambiare mai i risultati. Provano a tutto ciò che si vede, ma non si rendono conto che se vogliono cambiare i risultati, devono cambiare se stessi. Se cambieranno se stessi, quale parte di loro stessi dovranno cambiare? Devono cambiare il loro condizionamento subconscio. Ecco cosa devono cambiare. Questo è il paradigma. Il paradigma non è altro che un gruppo di abitudini che sono programmate nella mente subconscia che controllano il nostro comportamento. Ora, pensa a questo. Il tuo comportamento causa i tuoi risultati. Se vuoi cambiare i risultati, non guardare fuori da te stesso. Non dire che è l'economia, è il capo, è il mio coniuge. Non è nessuna di queste cose. È qualcosa dentro e si chiama paradigma. Come lo cambi? Bene, prima di tutto inizi con il risultato che vuoi cambiare. Diciamo che vuoi alzarti in tempo. Dormi sempre. Questo è un risultato molto semplice con cui molte persone hanno problemi. Come lo facciamo? Bene, diamo un'occhiata a ciò che ci fa dormire. È un'idea nel nostro subconscio che ci fa semplicemente continuare a sonnecchiare, stare a letto, non alzarci dal letto. Quindi dico, voglio cambiare quel risultato. Bene, scrivi esattamente il risultato negativo che stai ottenendo. Dormo sempre e sono sempre in ritardo. Non mi alzo mai. Premo snus sulla sveglia. scrivilo. Allora chiediti qual è l'opposto polare a quello. E scrivilo al presente, come un'affermazione. Sono così felice e grato ora che quando mi sveglio, mi alzo. Tutto qui. Sono così felice e grato ora che quando mi sveglio, mi alzo. E lo scrivi cento volte al giorno. So che la tua logica intellettiva ti dirà che è sciocco o non funzionerà. Bene, ci provi. Scrivi cento volte al giorno. Sono così felice e grato ora che quando mi sveglio, mi alzo. E annotalo cento volte al giorno per circa trenta giorni. Ti garantisco che smetterai di premere il pulsante snus. Sai cosa hai fatto? Hai programmato una nuova idea nella tua mente e prende il sopravvento. La vecchia idea muore per mancanza di nutrimento. Non la stai più nutriendo. Vedi, la vecchia idea era un'abitudine. Hai l'abitudine di boom, premi il pulsante snus, rimani a letto, torna a dormire. E quello che hai fatto è che hai programmato una nuova abitudine che è essenzialmente l'opposto della vecchia. Quella vecchia muore di fame perché hai continuato ad alimentare quella nuova. E scrivilo cento volte al giorno al presente. Sono così felice e grato ora che quando mi sveglio, mi alzo. E mentalmente vedi te stesso nel momento in cui ti svegli. I tuoi piedi spostano la coperta, ti alzi, sei fuori dal letto e poi resti fuori dal letto. Dai una svolta. Se funziona per quello, funzionerà per tutto. Sai, funziona nelle vendite. Sono così felice e grato ora che sono di fronte a clienti prima delle nove, proponendo loro di acquistare. Proprio l'opposto di qual è l'altro? Non sono affatto davanti ai clienti. Ho paura di chiudere la vendita. Sono così felice e grato ora che sono di fronte a un cliente prima delle nove e ho chiesto a ogni cliente di acquistare per cambiare un'abitudine. Cambia l'idea che è fissata nella tua mente. Attraverso la ripetizione della scrittura risolvi l'idea. La ripetizione è la prima legge dell'apprendimento. Provi quella piccola semplice cosa ma funziona come magia pura. Dai una svolta.